bellissimo no no veramente bellissimo e ti ringrazio perché ero dentro e sentivo va secchi in testa me l'hai tirata perché poi ho fatto secondo no molto bello bravo gallotta che è stato furbo a gestire traiettoria al alla prima curva però dai spettacolo assoluto per il fatto che era un po vagliata un po asciuta e il bello dell'autocross oggi divertentissimo che bisogna darsi da fare e bisogna avere tanto coraggio e tanto cuore e bisogna è veramente un po uno sport animalesco dove devi buttarti avere coraggio essere un po furbo no bellissimo e poi sul finale avevo anche preso ritmo dico ero lì mi sono giocato la vittoria oggi oggi è saltante poi bella la pista grazie al pubblico dai oggi è stato divertente a te si sentivo bravo anche a te grazie a tutti Grazie a tutti.